La forchetta tra i due candidati si amplia, abbiamo Gennaro Gianni del centro-sinistra al 47,2 e Susanna Ceccardi del centro-destra al 40,8, poi Irene Galletti 5 Stelle 7,1, Tommaso Fattori si toscana a sinistra 2,3, la somma degli altri candidati è del 2,6. Abbiamo poi anche le liste, il dato delle liste, dunque per quanto riguarda la coalizione di Gianni il PD è al 34,1, Italia Viva e più Europa 4,8, Europa Verde 2, Sinistra Civica 2,9, Orgoglio Toscana 2,8 e Svolta 0,4. Il totale della coalizione di Gianni è al 47, che è più o meno in linea con il dato del candidato. Per quanto riguarda il centro-destra, Lega al 20,7, Fratelli d'Italia 13,8, Forza Italia 4,3, Toscana Civica 1,2, totale 40, quindi leggermente sotto il dato della candidata Ceccardi. infine Movimento 5 Stelle al 7,7, Sì Toscana a sinistra al 2,4, il totale degli altri candidati partiti al 2,9. Grazie, grazie molte.